Si sono conclusi i lavori di ripristino del fondale nella secca delle murge e l'operazione di smantellamento del piano marino della ditta napoletana a Reserce, dopo una settimana interessato il molo di soprafflutto, al fine di ridurre il moto ondoso a ridosso del porto. L'escavora dovrà essere vagliato dalle istituzioni regionali che dovranno dare l'ok definitivo per la riconsegna dell'area portuale all'autorità marittima per il normale svolgimento della navigazione. I lavori sono stati portati a compimento nei tempi previsti senza creare problematiche al transito delle imbarcazioni.